Ciao, benvenuti nella mia cucina. Sei mai passato lunga la mia cucina? No? Allora iscriviti se ti piace la ricetta che farò oggi e ti iscrivi, mi lasci un commento e tutto va bene. Ok, oggi farò la tarte flammé, è una ricetta che mi piace molto, qui è molto usata e viene da un paesino che è tra la Francia e la Germania. E' semplicissimo, è un impasto lievitato, diciamo con una pizza vero sottilissima. Andiamo agli ingredienti. Andiamo nella mia cucina. 250 grammi di farina, mezzo cuovetto di lievito, 40 grammi di olio, 1-2 cucchiaini di sale, 125 grammi di olio e io scioglierò il lievito. 2-3 cucina, 25 grammi di olio 100 da Donkey JOVA! Distrifica tutti la ricetta. misceliamo gli ingredienti e poi ci aggiungiamo il latte con il liquido facciamo un impasto omogeneo facciamo le manine facciamo un bel impasto sin quando non rimane più niente attaccato alle mani mettiamo poi coperto a lievitare il sigaro a doppio vedete? non attacca più alle mani quindi è pronto l'impasto se volete farlo nella planetaria potete anche quello quando l'ho fatto a mano e l'ho impastato se non 5 minuti sin quando non attacca più adesso con un bel canovaccio copriamo e lasciamo in un posto dove non c'è correnti d'aria ciao 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 si sente e 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